Allora rivise libertà per loro Parabba, dopo aver fatto flaginare Gesù, lo consegnò, perché fosse crocifisso. Gesù viene portato fuori e calcato nel suo provo, in cruzio. Il Signore subisce tutto questo per me, è umiliata, percosso e sofferente. Esiste un gesto d'amore più grande? Gesù trasporta la sua volontà.